Ben quattro richieste da parte di ATER al comune di Pescara per chiedere la disponibilità della polizia locale al fine di verificare insieme ai tecnici dell'azienda i requisiti degli assegnatari negli appartamenti siti a Pescara in via Lago della Portella, oltre ad eventuali allacci abusivi alle utenze di luce, acqua e gas. Quattro richieste che finora sono cadute nel vuoto ad incalzare l'amministrazione comunale sull'argomento e il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. L'ATEL chiedeva, chiede ancora, fino a qualche giorno fa, la forza pubblica locale, quindi la polizia locale, che il comune mettesse a disposizione la polizia locale per andare a fare un censimento, il sacrosanto e benedetto censimento che chiedo da tempo, cioè verificare gli inquilini che sono occupati di abusivi, gli inquilini che rubano eventualmente la corrente elettrica e il gas. Il comune per ben quattro volte non riscontra queste note dell'ATEL. Quindi la propaganda becera del centrodestra che governa comune, regione e governo centrale, oggi si appalesa tutta. Fanno gli slogan e quando alla conta dei fatti sono chiamati per andare a ristabilire la legalità o a verificare se si può ristabilire la legalità, il comune non è esistente. Nel caso in cui dovesse partire il censimento, prosegue il consigliere Pentastellato, l'iter di verifica sarebbe molto lungo. Mi auguro che oggi qualcuno si vergognerà e manderà qui a fare il censimento, poi si attiva un iter che è lungo, quindi se mai parte il censimento mai partirà quell'iter finalizzato alla decatenza, a far sfrattare, a cacciare dalle case popolari gli abusivi, coloro che rubano l'energia elettrica, il gas e l'acqua. Per quanto riguarda le utenze domestiche, alcuni residenti delle palazzine di via Rigopiano si sono visti recapitare bollette fino a 6.000 euro. Mi auguro che dopo tutti questi mesi di silenzio il comune di Pescara guidato dal centrodestra inerte, politicamente inerte, si faccia avanti, mandi qui la polizia locale, faccia questo benedetto censimento per ristabilire la legalità e buttare fuori le persone che non hanno diritto a stare in questo quartiere perché questo quartiere lo dobbiamo ripulire. In città l'emergenza abitativa si abbatte anche su chi attende una sistemazione da oltre dieci anni. È il caso del signor Giuseppe che fa un appello al sindaco Carlo Masci. Io non voglio l'elemosina, io voglio che lui applichi la legge dello Stato, non mi deve regalare niente e non voglio passare davanti agli altri, ma neanche voglio crepare al di fuori, al freddo o al caldo intenso che fanno male alla mia salute.